Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video di Roblox, sono bella faccia, sono il re pollo come potete vedere ho ancora il mio mantello, vi piace il mio mantello? Se vi piace lo tengo, se non vi piace lo tolgo eh? Però in questo momento mi sento un vero re e quindi siamo qui nel campeggio di Roblox, ah vi piace la mia nuova casa sull'albero? Avete già lasciato un mi piace? Vi siete già iscritti? Io spero proprio di sì perché oggi dobbiamo scappare da questo campeggio perché lo zio Sam che è quello lì davanti non vuole farsi andare via da questo campeggio però come potete vedere i panini stanno finendo e se non ci sono più i panini bella faccia diventa un pochettino arrabbiato quindi dobbiamo scappare da questa giungla barra che cos'è un campeggio? E se io mi butto giù di qua che cosa succede? Penso qualcosa di orribile, ok dobbiamo andarcene zio Sam, zio Sam tutto bene? Che sorriso smaliante che hai, questo dovrebbe essere Indiana Jones forse, ok perfetto dobbiamo riuscire a scappare, siamo nella giungla ragazzi nella giungla di Roblox e sarà veramente complicato scappare da questo parkour infernale Oh piano 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 con questo mantello poi non si vede nulla non vorrei già bagnarmi il mio mantello nuovo eh proprio no 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 ok checkpoint non l'avevo capito magari eh piano che ci sono gli squali anzi gli alligatori potrebbero esserci gli alligatori qua sotto ok ciao rara Ok salve zio Sam stai tranquillo ci penso io uno due tre quattro vabbè ma per ora è facilissimo questo parkour che ci vuole mamma mia ok le ninfe attenzione bella faccia perché potrebbero esserci Oh quale morto cavolo cosa è successo un alligatori probabilmente l'ha morso un alligatori ok ce l'abbiamo fatta ci siamo ok le cascate le cascate del Niagara sto arrivando attenzione perché qui c'è dell'acqua eh potrebbe colpirci e geli da quest'acqua non prendere la bella faccia attento Oh per ora non sono mai morto incredibile ecco l'ho detto l'ho detto non sono mai morto e adesso tre due uno eccoci che cavolo è sta roba ma cos'è del vetro c'è della gelatina che cavolo ci fa la gelatina qui Eccomi stiamo arrivando stiamo arrivando bella faccia il parkourino più bravo di tutto roblox però con questo mantello non vedo niente ragazzi eh ok ci siamo vabbè ma per ora è molto rilassante Mi avevano detto che questo campeggio era rilassante ma non pensavo così tanto ok attenzione all'albero Sono una scimmia sono una scimmia sono diventato una scimmia ragazzi ecco quel checkpoint forza ci siamo ok forza sopra uno due tre Ah per ora è rilassante non potevo scegliere un parkourino più rilassante ui fiorellini sono un ape sono diventato un ape attenzione perché questi sono distanti e non fare il simpatico bella faccia Perché potresti cascare da un momento all'altro eh ok questo fiorellino sta passendo è verde ok ecco dobbiamo salire qua sopra vai Uh ok siamo diventati delle scimmie ok e adesso zio sam sono arrivato checkpoint Dobbiamo andare qua sopra forza uno una due una tre ok dobbiamo innaffiare i fiori eh mamma mia ma guarda un po' Devo innaffiare proprio i fiori non potevi innaffiarli te eh forza innaffia falli crescere Oh mio dio ma questi fiori crescono subito ma cos'è una foresta magica questa gira soli vai ci siamo No 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 io non entro lì dentro oh cavolo stavo per cascare fai attenzione bella faccia Non sei mai morto stai facendo un parkour incredibile no 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 io non voglio entrare qui dentro eh Oh mamma mia cosa ci sarà qui dentro ecco perfetto un vulcano ma perché in ogni parkour ci deve essere un vulcano Me lo spiegate cavolo piano guardate la lava come bolle sembra sembra del sugo ragù Ma perché ho sempre fame ok uno una due una tre roccia attenzione ok ma guardate dove sono finito dentro un vulcano Signorina mi aspetta oh mio dio è cascata nella lava poverina Poverina i capelli si saranno rovinati eh signorina ok piano mamma mia è orribile vedere la lava qua sotto ragazzi che paura Ok saliamo sulla pianta magica ecco qua spero che non ci sia una lucertola qui dentro un pepistrello gigante C'è nessuno oh mio dio questi ponti instabili Ancora non sono morto comunque incredibile mai successo oh zio sam eccoti via 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 Oh calmi 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 attento bella faccia non si capisce niente dove devo passare qua ok premi Ok veloce 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 E adesso vai 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 veloce 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 Non fermarti 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 Ok ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta non ci posso credere è lunghissimo questo parkourino della giungla Ok ecco qua e io volevo solo andare in un campezzo Cavolo guardate dove sono finito ok una due una tre una quattro Uh sto per cascare ok ci siamo Stio sam dove sei ti sto raggiungendo C'è la lava qui ti vedo ti vedo ti vedo C'è della lava incandescente Ecco perfetto Oh no mi bruciano i capelli Spegnetemi Mamma mia la mia prima morte Stavo andando così bene E' il mantello ragazzi è il mantello così ingombrante Che sicuramente è stato per colpa del mantello che ho preso fuoco eh Hopp Andiamo 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 Ok ci siamo zio sam eccoci Qua la mano ragazzi Salve ok andiamo avanti Sì bla 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 zio sam non mi importa dai Andiamo 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 Premiamo il pulsantino E adesso Si apre Si è aperta la porta Veloce dobbiamo raggiungerla Veloce Andiamo Torniamo indietro Vai Veloce 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 dobbiamo raggiungerla Ecco qua ci siamo Sì usciamo da questa caverna Ti prego Uh checkpoint No mio dio Non voglio Non voglio entrare lì dentro Ma che è Ma è possibile Io che voglio fare un campezzo tranquillo Devo trovare un tempio con una scimmia Arrabbiata Vabbè entriamo C'è della lava qua zio sam Ma dove mi fai entrare Cioè io non so potresti accompagnarmi eh Ok Vediamo un po' Oh mio dio ma c'è della lava Ma anche qui c'è della lava Allora dentro questo tempio sicuramente C'è un tesoro Oh oh una testa di Una testa di Che cavolo è di Oh 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 Che è? Il fuoco Veloce 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 che sparo il fuoco C'è una testa di un indigeno Qualcosa Attento il fuoco 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 Entriamo E adesso? Sì, e adesso? Oh mio Dio, che schifo, siamo dentro la bocca di questo, guardate le ossa Ha divorato sicuramente tantissimi polli E io sarò il prossimo, ragazzi, che schifo, siamo nell'intestino Ha mangiato le banane, ma cos'è, una scimmia? Era una testa di scimmia, ma le banane si sbucciano Ma che schifo, questo qui mangia le banane e non sbucciate Ma io non lo so, ok, altre banane, perfetto A questa scimmia piacevano le banane, si vede Ok, prima potevo camminare sulle banane e adesso queste sicuramente mi uccidono Ma che storia è? Ok, fammi uscire, no, 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 no No, no, ma perché io devo andare qui? Ma che schifo, no, che schifo Non toccare queste cose, che schifo Che schifo, che schifo Oh no, dobbiamo uscire dal retro No, che schifo Oh, nazio, Sam Ma dove cavolo mi hai portato? Io sono bella fazza, è re di tutto Roblox Perché con questo mantello sono diventato un vero re E supererò sicuramente questo parkour Attenzione, attenzione, attenzione Piano, 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 piano Arrivederci, arrivederci Dai, passa Passa, non ho paura di nulla E di nessuno Ma che cavolo è quel coso? Oh, le sfere magiche Attenzione, attenzione che passano Atten... Oh, cavolo No, 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 no Uh, e adesso? Devo andare su Oh, cavolo, arrivano Oh, mio Dio Queste sono imprevedibili Attento Oh, mio Dio Oh, mio Dio Calma, calma, calma Via, 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 via No, no, no Ho paura, paura, paura Ho paura, paura, paura Andiamo, andiamo Andiamo Caricare, 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 caricare Sì Ce l'abbiamo fatta Mamma mia Voglio andarmene da questo posto Voglio andarmene E cosa c'è adesso? Vi prego Adesso? C'è una barca? Oh La libertà C'è la libertà Andiamo sopra i massi Piano 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 Non morire adesso Che stai facendo tutto bene Oh Oh, 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 oh Calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Oh, no Si chiudono le porte Dovrei essere salvo, no? Andiamo, 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 andiamo Andiamo, andiamo, andiamo Ok, ce l'ho fatta E qua? Spuntoni Oh Piano Zio Sam Sto arrivando Eccomi Eccomi qua Spuntone Spuntone Zio Sam Sto arrivando Uh Per un pelo, per un pelo, per un pelo Eccomi Quando torniamo a casa? Ok, devo ritrasformarmi in una scimmia Niente di più semplice Niente di più facile Ok Un saltino Un altro saltino qua Forza che ce la fai, bella faccia Vai, 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 vai Le scale Le scale Andiamocene via da questo postaccio Oh, mamma Cosa sono sti cosi? Cascano per caso? No Ok, perfetto Uno Una, due Oh, mio Dio, sono fatta Sì Sì Dai, 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 dai Cos'è l'acido? Questa è la pipì di mucca Sicuramente pipì di mucca Via, 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 via Ok, ce l'abbiamo fatta Non ci credo Zio Sam Sì Ce l'abbiamo fatta Abbiamo preso anche la moneta Non ci credo E ci sono altri giochini C'è un hamburger Ci sono i ladri E questo l'ho già fatto Ragazzi, spero che vi sia piaciuto il video Fatemelo sapere Fatemi sapere Quanto Quanti panini devo mangiare Adesso Sì, magari fatemelo sapere Da me è tutto E ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao